A dare il buongiorno al professor Lino Nobili, che è il direttore dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile dell'ospedale Caslini di Genova. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, insieme a lei per parlare di disturbi alimentari, disturbi del comportamento alimentare e della nutrizione che colpiscono sempre più giovani, fino anche ad arrivare ai bambini. Se ne parla tanto in questi giorni, dopo che il governo ha deciso l'azzeramento del fondo, ci sarà tra l'altro una manifestazione proprio di familiari, associazioni, venerdì anche a Genova, ma insomma in tante città da nord a sud. Allora, le chiedo, professor Nobili, quali sono i numeri, qual è la situazione che voi, dal vostro osservatorio del Gaslini, avete notato? I numeri rispecchiano un po' quello che abbiamo già detto in vari incontri, cioè sono in aumento negli ultimi anni, sono in aumento le patologie, il disagio psicologico dei ragazzi, tra cui anche i disturbi della condotta alimentare, sono aumentati innettamente, sono aumentati più del 20-30% in questi ultimi anni e la cosa particolare è che si sta abbassando l'età anche di esordio. Questo è un disturbo che dà a colpire sempre di più anche ragazzini, ragazzini che hanno meno di 12 anni, 11 anni o addirittura ancora più piccoli, quindi il fenomeno è assolutamente in crescita. Purtroppo noi, se devo dire, non dovremmo nemmeno vederli, nel senso che il lavoro che facciamo nel nostro ospedale e su quelle ragazze, in particolar modo questo disturbo colpisce le ragazze, ma che hanno una situazione veramente acuta, che può essere proprio di pericolo importante, in cui è necessario assolutamente fare il ricovero. Fortunatamente i disturbi della condotta alimentare possono essere gestiti ormai non in ospedale, anzi devono essere gestiti più in altro sistema ambulatoriale, quindi più dal territorio. È chiaro che per far questo ci vogliono forze e ci vogliono risorse. Se ciò non avviene, il problema potrebbe essere che questi accessi presso il nostro istituto andranno ancora ad aumentare. Ecco, il rischio quindi è quello che se verranno effettivamente azzerati questi fondi, se l'assistenza, se tutto quello che è il mondo che si era costruito, anche, lo ricordiamo, con l'associazione Minutro di Vita, con Stefano Tavilla, insomma dopo la morte della figlia Giulia, l'istituzione anche di una giornata nazionale proprio per i disturbi del comportamento alimentare, possano far sì che le situazioni, diciamo quelle acute, quelle che vedete voi, possano andare ad aumentare. Anche queste situazioni così acute le avete viste in aumento nell'ultimo anno, forse dopo il Covid? Sì, beh certo, io parlavo proprio delle situazioni acute sono aumentate, quindi i malessere che portano questo disturbo a essere particolarmente severo sono aumentate, sicuramente il Covid ha dato, come abbiamo già detto più volte, una grossa spinta, ma questo trend era già in evidenza ancora prima. E come diceva lei, la paura è proprio questa, perché in effetti in questi anni sono state fatte delle cose importanti, pensiamo al protocollo, il cosiddetto Fiocco Lilla, l'estensione a ragazze fino ai 18 anni, anche seguite presso il nostro istituto, fortunatamente ormai da questo disturbo, che è comunque molto severo, ma si può guarire, ma si può guarire solo se noi abbiamo la possibilità di dare a questi ragazzi, ragazze, in particolar modo un trattamento che richiede molte specializzazioni, qui abbiamo lo psicologo, il neuropsichiatra infantile, il dietista, il dietologo, il riabilitatore, il terapista di riabilitazione psichiatrica, quindi varie figure professionali si muovono intorno a questa situazione, solo lavorando in queste equip, diciamo anche numerose, è possibile dare a questi ragazzi una possibilità di uscirne da questa strada, che purtroppo ancora molto spesso prende un'evoluzione così sfavorevole da essere ricoverata da noi in emergenza, dove comunque fortunatamente abbiamo creato in questi anni un equip con tutte le figure di cui le ho detto, e questo è fondamentale, la paura nostra, la paura dei genitori, la paura dell'associazione delle famiglie è che si ritorni indietro. Senta, le faccio un'ultima domanda, diciamo che probabilmente molti dei nostri telespettatori si stanno facendo, sentendo le sue parole e cioè sul fatto che l'età si stia sempre di più abbassando, sono sicura che molti dei telespettatori adesso si stanno chiedendo, sì ma una volta era collegato il disturbo alimentare a dire non si vuole ingrassare, si vuole essere in un certo tipo, ma quando colpisce un bambino o una bambina di 8-9 anni, che cos'è che scatta, che cosa c'è dietro? Guardi, i meccanismi sono sempre più complessi, sempre più nuovi e sempre più misti, è un po' lo stesso discorso che facciamo quando, ma perché adesso certi disturbi, anche al di là di disturbi da condotto alimentare, vanno a colpire sempre i più giovani. I giovani sono sempre più sottoposti a degli stimoli esterni in maniera precoce, non è detto che ne abbiano la forza per gestirne tutte le informazioni che ricevono, pur avendo, come dico, molto spesso dei giovani che sono anche tra virgolette molto più in gamba, molto più avanti, si possono esprimere in certe situazioni anche più facilmente delle fragilità. Quindi io non credo di avere la risposta per dirle perché abbiamo sempre dei bambini più piccoli che si trovano di fronte a questa situazione. È un malessere che riguarda i bambini, riguardano le famiglie e che esprime un malessere, secondo me, dell'intera nostra società. Quindi l'argomento è molto complesso e non mi sentirei neanche corretto di fare un riassunto in poche parole di quello che sta avvenendo. Di fatto noi dobbiamo mettere in moto dei sistemi per controbilanciarlo. Poi il nostro lavoro di medici è quello di, al di là di quali sono le cause, di cercare di dare dei messaggi, ma di mettere insieme delle equipe, delle strutture per aiutare questi ragazzi. E se non funziona purtroppo il territorio, se non funziona quello che è fuori dall'ospedale, noi facciamo veramente fatica e c'è quindi un equilibrio importante tra le nostre attività, le attività del territorio e le attività che possono essere eseguite anche a casa. Grazie, grazie a Professor Lino Nobili, Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile del Gaslini di Genova. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi.